buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutti e abbiamo deciso buongiorno a tutti buongiorno abbiamo deciso insieme a Maria di fare questo video per il semplice motivo che volevamo scusarci con voi sicuramente avrete già visto la nostra diretta buongiorno a tutti buongiorno a tutti abbiamo deciso insieme a Maria di fare questo video di pubblicato buongiorno a tutti buongiorno e intanto vi auguriamo una buona giornata vi auguriamo una buona giornata se dice la ultima giornata ci auguriamo c'era una musica di sottofondo che come vi spiegherà Veronica abbiamo anche fatto più no non vuoi buongiorno a tutti buongiorno abbiamo deciso insieme a Maria di fare questo video e naturalmente di pubblicarlo semplicemente perché volevamo scusarci con voi si vi chiediamo scusa per la diretta che abbiamo fatto il 6 maggio buongiorno a tutti buongiorno e abbiamo deciso insieme a Maria di fare questo video e di pubblicarlo naturalmente semplicemente perché volevamo scusarci con voi ci scusiamo per cosa? ci scusiamo? per tante cose scusate se rido ma mi viene spontaneo perché riguardandomi non è da pubblicare no? eppure mi piaceva perché era spontaneo buongiorno a tutti buongiorno abbiamo deciso insieme a Maria di fare questo video semplicemente perché volevamo scusarci con voi stavo benvenire da ridere ammettere